Ogni tanto in capo in questi video, non so se ci avete fatto caso di tutte queste persone che decidono di cambiare vita e andare a vivere in montagna, su un monte, di staccarsi dalla società e per qualche motivo andare a vivere per i fatti loro. Lontani e distaccati dalla società e devo dire, come magari tanti di noi, è una cosa che non mi dispiace, mi affascina molto, anche perché sono una persona molto solitaria e mi piace l'idea di avere la possibilità per anche brevi periodi non vedere nessuno, insomma, comunque come tutti noi abbiamo bisogno ogni tanto nella vita di momenti di solitudine. Con i prati, no? Tutte queste persone felici che abitano in questa cascina, col camino, insomma, tutte cose evidentemente che fanno gola a molti di noi. E poi però, cioè, fanno vedere la loro vita, però difficilmente poi, non so se ci avete fatto caso, difficilmente però poi entrano nel tecnico e nel pratico di come vivono la quotidianità, perché capisco il fatto di distaccare... è caduto il cellulare. Capisco il fatto di, come vorrei fare anch'io, no? Di staccarmi un po' dalla società e tutto quello che vuoi, molto bello, natura, eccetera. Però bisogna avere anche un minimo di livello di logica, nel senso, non è che poi viviamo di prati e di aria di montagna. Cioè, come in ogni cosa, bisogna poi a un certo punto anche spiegare in che modo, nel quotidiano, e quali sono le difficoltà che queste persone intraprendono nella vita. Perché comunque io penso che tutti noi che guardiamo questi video, poi a un certo punto ci facciamo queste domande. Però, boh, rimane tutto così, nel nulla, senza queste... Cioè, ci sono questi qua che fanno queste interviste, parlano sempre delle stesse cose, come ti trovi adesso, e quelli che rispondono, eh bene, adesso sono molto più libero, sono molto più tranquilla. Ok, ma cosa fai? Ma cosa mangi? Cosa... e questi qua, eh, vivo della mia agricoltura. Eh, ho capito, ma se ti sei distaccato a 5.000 metri da terra, come fai nel pratico a curarti se stai male? Come fai? Non ce le facciamo queste domande? No, non ce le facciamo perché al giorno d'oggi, non so se vi siete accorti, vogliono venderti una realtà puntando soltanto sui punti di forza ed evitando completamente quelli negativi per imbambolarti e venderti, tra virgolette, le caramelle colorate e tirarti scemo fondamentalmente. Siamo noi che poi dopo dobbiamo distaccarci e farci delle domande, però sarebbe anche il caso che iniziano a fare un lavoro un po' più completo. Cioè, in teoria, bisognerebbe fare così le cose nella vita, fatte bene. Non ho avuto delle risposte, cioè, mi sono imbelagata in sti video che dopo un po' ti tirano scema, perché effettivamente, ragazzi, attenzione, cioè, come ogni cosa, non so se ci avete fatto caso, su YouTube, come ogni cosa, ogni cosa è un po' una marchettata, cioè, a me che piace è la natura, non so se ci avete fatto caso, passiamo ore e ore e giorni della nostra vita a guardare video sulla natura. A quelli che piacciono i mobili, trovi video sui mobili, insomma, oggigiorno riusciamo a trovare fonti di ogni tipo. Ed è questo poi alla base, cioè, è questo poi alla base il marketing di YouTube, che ti fanno stare accollati a sti video e continuano a riproporti video uguali, però a un certo punto bisogna anche stringere la sostanza qua. Cioè, io adesso sto arrivando alla conclusione che, vabbè, non è che uno deve mettere nel cassetto il fatto di andare a vivere per i fatti propri, se piace la montagna e piacciono queste località va benissimo, però io ad oggi vi giuro che con tutti i video che ho visto non sono ancora arrivata a capire nella pratica le problematiche che sono uscite e come hanno posto rimedio. Sembra quasi che vogliono nasconderle queste cose. Ma non è che siamo scemi queste domande ce le facciamo, o no? Quindi per adesso io sono arrivata al punto che sicuramente non andrei a vivere a 3000 metri di distanza dalla civiltà, perché poi alla fine, se ci avete fatto caso, anche sti video sono esagerati al massimo proprio per attirare ancora di più. Cioè, come in ogni cosa, sembra che devono esagerare e fare la... non so neanche come chiamarla, la moda esagerata, come quelli... Dovrebbero lavorare un pochino più sulla qualità e sulle domande vere da porsi, piuttosto che stirare e fare i ricciolini. Ad esempio che si mettono il rossetto, vedi queste immagini con rossetti fucsia, cose... Poi tutto avviene un po', prende un po' del ridicolo, perché si perde la sostanza e le cose veramente che dobbiamo sapere e si butta tutto sul far vedere chissà che cosa, che poi alla fine, stringi stringi, a poco ci serve. Cosa mi interessa a me è di andare a vivere a 10.000 metri di distanza da terra. Andrò a vivere a 10.000 metri di distanza da terra con il rossetto fucsia. E poi mi internano direttamente in un ospedale psichiatrico, perché giustamente gli abitanti del paese si spaventeranno anche. Cioè, può essere curioso vedere una persona che vive così, sì, però poi finisce lì. Cioè, nella mia vita non mi ha portato del beneficio reale guardare un video così. Quindi, non lo so, secondo me bisogna iniziare un pochino ad essere selettivi anche con questi video, così anche i creator si rendono conto che non siamo scemi, che passiamo la nostra vita a guardare questi video, che poi alla fine in tasca non ci viene niente. Iniziare a fare delle domande intelligenti, in modo che si sveglino e si rendano conto che noi vogliamo anche un pochino più di sostanza. Perché io ad oggi, appunto, ripeto, non è che metto nel cassetto di andarmene dalla città, perché a me nella città mi sono raccorta sto proprio male. Però è anche vero che non andrò mai a vivere a 10.000 metri di distanza da casa, perché non sono scema, completamente bacata. A mio parere, e penso che è quello che farò io, la cosa migliore sarebbe visitare bene un posto, capire se è un posto che piace, e poi capire un po' quali sono le zone un pochino distaccate dalla civiltà, ma comunque, se succede qualcosa, un minimo avere un appoggio, perché poi alla fine bisogna anche pensare a quello. Cioè, non si può vivere soltanto di aria e di natura.